Mappare le aree più frequentate nell'attività di pesca e permettere così un controllo e un monitoraggio di queste zone per migliorare la produttività. È l'obiettivo del progetto realizzato e seguito dal professor Roberto Gramolini, esperto in database, in collaborazione con l'organizzazione produttori della pesca di Fano, Marotta e Senigallia, che consiste nella geolocalizzazione tramite un sistema computerizzato già presente all'interno delle barche e permette, grazie al rilievo di più fattori, quali la velocità, la loro posizione e la rotta, di localizzare le imbarcazioni impegnate in un determinato momento e luogo nelle battute di pesca. Queste informazioni che vengono raccolte dalla società che gestisce questi dati sono state elaborate, sono state interpretate, in modo da identificare in maniera particolareggiata quelle che sono le cale, le battute di pesca che l'imbarcazione fa durante la giornata. Associando queste informazioni alle quantità sbarcate è possibile geolocalizzare, cioè mettere su una mappa, quelle che sono le quantità pescate e lo sforzo che le imbarcazioni hanno fatto per raccogliere quella risorsa. In questo modo, continua Gramolini, si compone una serie di informazioni già disponibili ai produttori, con lo scopo di migliorare la gestione delle risorse ma anche di contrastare la pesca illegale. Sapremo in qualsiasi momento dove sono queste barche, cosa stanno facendo, se stanno pescando nelle zone che le abbiamo autorizzate come consorzio, nelle zone vietate e quindi è una crescita del settore ma è anche un controllo, è un contrasto della pesca illegale. Io direi che sono tre le parole chiave, sostenibilità perché in questo modo si aumenta la gestione sostenibile della risorsa etica, migliorare la gestione in modo da interpretare meglio quello che si è stato fatto per prevedere nel futuro le attività successive e infine anche gestione della fascia costiera, un concetto che è molto all'ordine del giorno perché in questo modo si migliora la gestione di una fascia che ha una particolare importanza dal punto di vista biologico per tutto l'ecosistema marino.